Per domenica 3 marzo sono previste le primarie per la nomina del nuovo segretario, per l'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico. È sicuramente un momento importante per chi in questo momento non si riconosce nelle politiche del governo, del governo giallo-verde. È il momento di chiamare a raccolta un po' tutti gli elettori del centro-sinistra. Dobbiamo dare una risposta forte perché ne va del nostro futuro. Vediamo che le politiche messe in lato da questo governo non sono sicuramente all'altezza delle aspettative della popolazione. Anche i dati sulla produzione industriale ci mettono in forte preoccupazione. Quindi l'appello che noi rivolgiamo a tutti gli elettori del popolo centro-sinistra e soprattutto, come dicevo prima, a chi non si riconosce in queste politiche, di partecipare alle prossime primarie, votare chi meglio pensa che possa rappresentarlo, ma di dare un forte impulso perché da qui possiamo ripartire per far tornare grande l'Italia e anche l'Europa. Grazie. Grazie.